Salve a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei dialoghi di Pandora Rivista. Siamo qui oggi con il generale Giuseppe Cucchi, che ringraziamo molto per la sua presenza, generale di corpo d'armata della riserva dell'esercito, consigliere scientifico della rivista Limes e del Cespi, è stato direttore del centro militare di studi strategici, consigliere militare della presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentante militare italiano presso la Nato e l'Unione Europea e ha diretto il Cesis e ha vissuto la trasformazione al Dis, diventando il primo direttore del Dis. Con lui cercheremo di affrontare il tema, partendo ovviamente dal suo lungo percorso all'interno delle Forze Armate italiane, una carriera molto importante di cui ripercorreremo alcuni passaggi, affronteremo il tema del ruolo, della funzione e della composizione delle Forze Armate oggi, finendo con gli scenari aperti dalla guerra in Ucraina. Quindi grazie per l'attenzione e per l'ascolto e possiamo iniziare dopo la sigla. Ecco generale, lei ha vissuto una vita nelle Forze Armate, poi se vorrà ci ricorderà appunto quando è iniziato il suo servizio e come ricordavo anche prima ha assunto diversi e molteplici ruoli appunto nel corso di questa carriera. Ecco per iniziare io le chiederei di ricordare alcuni di questi passaggi che dal suo punto di vista possono essere particolarmente significativi anche rispetto a ciò che mostrano del cambiamento del Paese e delle Forze Armate italiane. Beh la prima cosa che vorrei sottolineare è il fatto che io sono entrato nelle Forze Armate attraverso la porta della scuola militare di Napoli, la Nunziatella, e quindi sono entrato all'età di 15 anni, nel 1955, trovando delle Forze Armate che erano ancora delle Forze Armate uscite dalla guerra, in un'Italia impoverita, distrutta dalla guerra, al punto tale che come vestiaio, come armamento, eccetera, avevamo ancora quello della seconda guerra mondiale e in molti casi quello degli eserciti vincitori della seconda guerra mondiale. La mia prima uniforme, la prima uniforme che ho indossato nel 55 era un uniforme inglese, non portavamo l'elmette inglese però era un uniforme inglese. Sono uscito dalle Forze Armate nel 2008, ho avuto una carriera eccezionalmente lunga anche perché in pratica sono andato in pensione tre volte, le prime due volte sono andato in pensione e poi mi hanno richiamato. Quindi ho vissuto tutto questo lungo periodo dell'esercito italiano e del nostro Paese, 53 anni di servizio effettivo. E in questi 53 anni ho seguito in pratica il cambiamento che c'è stato, un cambiamento che è stato un cambiamento fondamentale e il primo cambiamento che voglio segnalare è il fatto che ho iniziato con un esercito che era un esercito di leva, ho vissuto con l'esercito di leva tutto il periodo della contrapposizione fra i blocchi e poi ai primi di questo secolo l'esercito di leva è stata abbandonata, l'esercito di leva è stato sciolto, la leva è stata momentaneamente sospesa, non cancellata come la gente erroneamente crede, è momentaneamente sospesa fino a decisione contraria del governo e purtroppo devo segnalare che con quello che succede in Ucraina c'è già un Paese europeo, la Svezia, che ha ripristinato la leva, erano le nostre stesse condizioni, per fortuna non le nostre stesse condizioni geografiche perché la Svezia è molto più vicina alla Russia e quindi sente molto di più un pericolo incombente per quello che sta succedendo, ma lì c'è stato il ripristino della leva. Quando avevamo la leva i soldati che venivano cambiavano ogni anno, i soldati che venivano erano lo specchio di un Paese che cambiava, quindi la prima cosa che vorrei sottolineare era come con un esercito di leva da gestire noi ufficiali e sotto ufficiali avessimo in continuazione il polso preciso di come andavano le cose nel Paese. Nessun contingente era uguale all'altro contingente, i contingenti cambiavano, i contingenti seguivano l'evoluzione del Paese, che era in pari tempo un'evoluzione culturale e un'evoluzione economica, di vita, di condizione di vita. Io ricordo che i miei primi reparti erano reparti in cui noi mantenevamo in ogni reggimento due tipi di scuole, le scuole per gli analfabeti e le scuole per i semi-analfabeti. I semi-analfabeti erano quelli che secondo l'uso di allora facevano scuola fino alla terza elementare. Gli analfabeti erano gli analfabeti completi, ne ho avuti purtroppo tanti tra i soldati, ricordo un servo pastore sardo che oltre a essere l'analfabeto non aveva mai visto le scuole in vita sua, per cui ci volve una settimana per convincere a salire al primo piano dove erano le camerate, gli portavamo giù la bran durante la settimana. Quindi il primo cambiamento che ho visto è stato questo. Il secondo cambiamento è stato il fatto che noi abbiamo vissuto nei primi 40 anni della nostra carriera una situazione che è quella del tenente Drogo, del romanzo di Buzzati, del deserto dei Tartari. Abbiamo aspettato per 40 anni dei Tartari che non sono mai venuti. Siamo stati dentro la nostra fortezza perfettamente organizzati, pronti a respingere i Tartari e i Tartari non sono venuti. Stanno arrivando adesso in un certo senso con 30 anni di ritardo, ma io ho fatto la fine di Drogo che nel momento in cui arrivarono veramente i Tartari era troppo vecchio e venne sgomberato dalla fortezza Bastiania dove operava. Quindi abbiamo avuto questi primi 40 anni che sono stati 40 anni di contraposizioni. Contemporaneamente attraverso anche questa contraposizione, attraverso la nostra aderenza alla Nato, la nostra partecipazione alla Nato, abbiamo avuto una progressiva trasformazione da un esercito nazionale a un esercito aperto a quello che era l'ambito internazionale. Non è stato affatto facile fare questa trasformazione. C'è stata una resistenza interna da vincere che è stata una resistenza interna fortissima. Io ricordo un mio sottocapo di stato maggiore che ho avuto un momento in cui dirigevo tutte le attività internazionali dell'esercito italiano e che mi disse un giorno tutte le attività internazionali che tu gestisci non valgono il cortile della caserma degli alpini di Palussa. Però progressivamente la necessità di un'internazionalizzazione si è imposta e in un certo senso questo ci ha dato un grosso vantaggio perché nel momento in cui nel 1989 ci siamo ritrovati di fronte a un mondo che cambiava radicalmente con un avversario che svaniva quasi dalla sera alla mattina, un patto di Varsavia che si scioglieva o un urso che si spaccava in 15 stati differenti di cui alcuni pronti già palesemente a passare dalla nostra parte a entrare nella nostra struttura. Noi abbiamo potuto diciamo compiere questo passo nel cambiamento insieme agli altri paesi soprattutto insieme agli altri paesi di un'Europa che non si concretizzava pienamente mai ma di cui si discuteva in continuazione e cominciava a mettere in piedi le prime strutture come le ha messe nel banco. E in quel momento tutto è cambiato, è cambiato lo strumento, è cambiata la missione. Siamo diventati dei gestori di crisi per tutti gli anni 90 nella Jugoslavia e poi siamo diventati dei peacekeeper. Molti dicono che noi siamo i migliori peacekeepers del mondo, che c'è una via italiana al peacekeeping che è la migliore di tutto il mondo. Personalmente credo che sia vero, siamo bravi nel farlo perché ci immedesimiamo nelle persone che dobbiamo proteggere nelle situazioni che vivono, cosa che molti altri contingenti delle forze di pace non fanno. Però questo ha cambiato lo strumento in maniera tale che noi abbiamo dei soldati che non sono più dei soldati come una volta addestrati alla guerra. Il soldato addestrato alla guerra sa, per lui è diventato quasi abituale, sa che deve usare il massimo della violenza dal primo momento, se vuole sopravvivere, se vuole vincere, eccetera. Il peacekeeper no, il peacekeeper è addestrato in maniera del tutto differente. Il peacekeeper sa che deve usare il minimo della violenza indispensabile ogni volta che interviene. E quindi noi abbiamo adesso una struttura, e questo è un punto importante, una struttura delle forze armate che è orientata principalmente verso il peacekeeping. Ecco, già appunto l'ha accennato in parte, ma quindi quali sono oggi i possibili compiti delle forze armate? Ma sai, non li sto decidendo io i possibili compiti delle forze armate, i possibili compiti delle forze armate li decide una situazione internazionale che è in un'evoluzione rapidissima e imprevista e tragicamente pericolosa. quindi noi siamo in questo momento condizionati da un primo fatto che è la situazione attualmente in atto tra la Russia e l'Ucraina. Ma non è soltanto quello che ci interessa, quello che ci interessa a monte di questa situazione è quello che succede e che succederà tra la Russia, la NATO e il cosiddetto occidente. Siamo in una situazione che è estremamente pericolosa, per molti aspetti è già una situazione di guerra. E quindi quali sono i compiti delle forze armate in questo momento? I compiti delle forze armate in questo momento sono o perlomeno dovrebbero essere quello di ristrutturarsi rapidamente per poter continuare l'opera di peacekeeping che stanno svolgendo in parecchi paesi con grande utilità e con grande competenza ma nello stesso tempo essere pronte a... ma non sono solo le forze armate che dovrebbero cambiare mentalità eccetera, è tutto il paese. E questo non è un compito molto facile, riuscire a spiegare a un paese che la situazione è cambiata al punto tale che adesso si trova nel cuore di una guerra più o meno senza che gli sia stato detto che è nel cuore di una guerra. Non soltanto quello, ma il fatto che potrà essere coinvolto in futuro in maniera molto più pesante. Guardi adesso il salto che è stato fatto con il sabotaggio dei gasdotti. Questo significa che si è aperta una guerra che è una guerra del rifornimento di energia. Ma se vengono sabotati i gasdotti nel Baltico possono essere sabotati anche i gasdotti in Mediterraneo. Anche perché c'è un passaggio culturale molto importante perché per tanto tempo a livello europeo, italiano in un qualche modo la guerra non apparteneva all'orizzonte del possibile in un qualche modo a livello dell'opinione. Non apparteneva all'orizzonte del possibile al punto tale che noi abbiamo vissuto quattro episodi bellici dal 1945 in poi. L'Italia ha vissuto quattro episodi rifiutandosi sempre di pronunciare la parola guerra. Perché la parola guerra era rifudiata, come diceva in un certo senso la Costituzione, se vogliamo interpretare strettamente quell'articolo 11. La prima volta è stata nel 1952 quando è stata cessata l'azione delle Nazioni Unite in Corea. Noi abbiamo partecipato con 300 uomini in un ospedale d'accanto. Va bene, era una partecipazione sanitaria, ma quella era veramente una guerra. Poi dopo la seconda volta è stata quando c'è stata l'operazione del Golfo. L'operazione del Golfo, Andreotti inventò una formula straordinaria perché disse che era un'operazione di pulizia internazionale condotta sotto all'egito delle Nazioni Unite per il ripristino della sovranità del Kuwait sul suo territorio. Insomma è stato un equilibrismo linguistico del tipo di quello che ha fatto il presidente Putin quando si è rifiutato di chiamare guerra l'aggressione della Russia all'Ucraina. Noi non eravamo aggressori nel caso del Kuwait però era una guerra. Poi abbiamo avuto la guerra del Kosovo e anche quella è stata una guerra in cui bombardavamo ma partecipavamo alle azioni di bombardamento quando la Nato cominciò ad agire con i bombardamenti sul Kosovo tutti gli aerei del Rato partivano da basi italiane e noi dicevamo che non stavamo partecipando alla guerra e tutto il resto. E poi l'altra è stata la guerra contro la Libia perché a un certo punto la Nato quando le forze rivoluzionarie non sono riuscite ad abbattere Gheddafi è entrata in guerra. E quindi abbiamo avuto quattro episodi di guerra ma la mentalità nazionale di rifiutare la guerra era tale, era talmente forte che non solo non li abbiamo chiamati mai guerra ma ci siamo anche rifiutati di ammettere che eravamo in guerra. La guerra era qualcosa che non poteva succedere e soprattutto non poteva succedere a noi europei. Per noi europei era arrivata la fine della storia, noi eravamo destinati a vivere in pace e in maniera prospera per l'eternità. E adesso se ci si guarda intorno si vede che quelli che succedevano allora erano sogni. Le faccio un altro, le sottolineo un'altra cosa che potrà provocare un cambiamento di qualche tipo. Il fatto che se si dovesse per caso far fronte a degli episodi di guerra eccetera, per la marina e per l'aeronautica possiamo essere a posto ma l'esercito non ha neanche un uomo di riserva. Ecco appunto su questo volevo chiederle di farci perché sono temi che appunto sono anche poco noti diciamo all'opinione pubblica, di farci un quadro di qual è la composizione e lo stato attuale diciamo delle forze armate italiane e appunto come lei stava accennando quali ne sono i punti di adeguatezza e i punti di debolezza. Guardi io non posso scenderle nei particolari perché anche perché sono in pensione da parecchi anni e quindi seguo, ma seguo da lontano e seguo da fuori e quindi rischierei di dire delle cose che non corrispondono con precisione alla situazione. Quello che vedo è che esaminiamo due fattori da un lato la composizione delle forze armate e dall'altro lato il finanziamento delle forze armate. Composizione delle forze armate, dopo la fine della contraposizione dei due blocchi, le forze armate si sono ridotte di più del 50%. Avevamo una forza che era una forza di 25-26 basi dell'aeronautica con reparti, di 25 brigate dell'esercito e di un numero di navi che superava, se mi ricordo bene, i 50. Adesso siamo più o meno intorno alle 25 navi di unità maggiori da combattimento. Le basi dell'aeronautica si sono ridotte a una dozzina, le brigate dell'esercito si sono dimezzate, più che dimezzate. Questa è la situazione che noi abbiamo. Sono molto più operative di quanto non fossero una volta, anche perché i soldati che noi abbiamo adesso passano, in un certo senso, grazie alle operazioni di Pischipi che svolgono in parecchie parti del mondo, passano attraverso un continuo addestramento. Oltretutto è un continuo addestramento in ambienti che sono ambienti completamente diversi e in situazioni che sono completamente diverse. A monte di tutto questo noi abbiamo un armamento e un approvvigionamento di materiali che è sempre stato considerato dalla nostra politica e dalla nostra opinione pubblica come adeguato, ma è sempre stato considerato, diciamo così, dagli esperti del mestiere eccetera, come privo di una parte dei mezzi finanziari che sarebbero indispensabili. La Nato valuta che un finanziamento adeguato per le forze armate sia pari al 2% del prodotto nazionale loro. Noi non siamo mai andati oltre l'1,2, l'1,3%. Abbiamo sempre promesso, perché la Nato chiede anche impegni agli stati membri, abbiamo sempre promesso che col tempo saremo saliti a quel 2% che è fissato per tutti i paesi della Nato, sostanzialmente non l'abbiamo mai fatto. Adesso dovremo farlo per due ragioni. La prima è il fatto che ci ritroviamo di fronte a una situazione che manifesta a pieno la sua pericolosità. E la seconda è che in varie occasioni si siamo trovati a dover constatare come questa politica risparmio sia una politica che ci mette in crisi in quello che è il settore degli approvvigionamenti accantonati. Ad esempio, ed è un fatto comune a tutti i paesi Nato, il munizionamento ad esempio costa moltissimo. Quindi di munizionamento lì si produce e si accantona quel minimo che si ritiene necessario per affrontare le prime esigenze. Quando è successa la guerra contro Gheddafi, l'aeronautica francese e quell'inglese, che furono quelle che andarono a bombardare la Libia nel quadro delle forze Nato, finirono le bombe intelligenti nel giro di cinque giorni. L'Inghilterra e la Francia non ne avevano più accantonate. Furono costretti a comprarlo dagli Stati Uniti, che fanno una politica di accantonamento dei materiali completamente diversa. Fanno una politica da potenza imperiale che nessuna potenza neanche più la Francia, che è stata l'ultima a rinunciarvi, che nessuna potenza europea fa più. Quindi ci sono da ricostituire delle scorte che possano essere adeguate per degli episodi bellici di maggiore intensità. È quello. E un'altra cosa che in certo senso mi impensirisce, mi chiedo se dovesse succedere qualche cosa di abbastanza grave, non solo dove andremo a prendere gli uomini e le donne che ci servono, cioè i combattenti che ci servono, anche perché questo rifiuto della violenza permea tuttora la mentalità del nostro Paese. Ma non è soltanto del nostro Paese, perché quello che mi ha colpito, e mi ha colpito moltissimo, sono state le file di ragazzi russi che attraversano il confine per non rispondere alla chiamata alle armi. Di che significa che c'è un rifiuto della violenza diffuso in una generazione, che è proprio la generazione che dovrebbe combattere e quindi utilizzare questa violenza che non è soltanto nostra, ma che è anche del potenziale avversario. E quanto alle azioni che stiamo già svolgendo, c'è già qualche cosa che stiamo facendo. Guardi la Marina, come è stata chiamata in un certo senso, a cercare di interdire l'Adriatico a manovre russe che potevano nascondere qualche attività che poteva essere pericolosa per il Paese. Io ricordo una cosa, per esempio, non è il caso dell'Italia, ma è il caso dei Paesi scandinavi. Anche in tempo di limitata tensione con i russi, con i sovietici prima e poi con i russi, i russi quando dovevano dismettere un sottomarino nucleare e avevano il problema del residuo nucleare, cosa facevano? Lo portavano nelle acque territoriali di un Paese nato, lo affondavano lì e lo lasciavano lì. Generalmente lo facevano nei Paesi scandinavi. Quindi il fatto che la nostra Marina protegga l'ingresso dell'Adriatico è una cosa molto buona. Poi ho letto come sia stato deciso a livello governativo una protezione più accurata per i gasdotti che ci vengono dall'Algeria e dalla Libia e per quello che viene dalla Turchia, che passano sul fondo del Mediterraneo e che potrebbero, se c'è qualche malintenzionato di qualche tipo, far la fine del nostro rima. Ecco grazie generale per questo quadro. Lei faceva riferimento diciamo a questo contesto di grave ritorno di tensione, peraltro in un contesto in cui anche la guerra, anche le dimensioni dei conflitti sono cambiate. Ecco si è parlato molto negli ultimi anni di guerra ibrida appunto, delle diverse appunto aspetti appunto di questa guerra. Ecco questo dal suo punto di vista quali sono gli aspetti più rilevanti di questo cambiamento e quali anche rischi e sfide pone questa nuove dimensioni che la guerra assume? Beh abbiamo riconosciuto, non ci sono in realtà delle nuove dimensioni, ma abbiamo finalmente riconosciuto il fatto che si possono combattere delle guerre su parecchie, tutte le guerre, si combattono su parecchie dimensioni contemporaneamente e tutte queste dimensioni contribuiscono a formare un unicum a cui noi diamo il nome di guerra. La guerra ibrida che cosa vuol dire? Vuol dire una guerra che non si combatte unicamente con le baionette in pugno o con le armi atomiche, ma si combatte per esempio nel settore economico, con i provvedimenti di carattere economico. Io ricordo una cosa che è poco conosciuta, la settimana prima dell'attacco di Pearl Harbor gli Stati Uniti dichiararono un embargo pressoché completo dei prodotti giapponesi perché temevano il riarmo giapponese, i giapponesi non volevano fermare il riarmo, gli Stati Uniti gli dedero un ultimato e poi fecero un embargo e i giapponesi giudicarono l'embargo un'azione di guerra. Ma non è soltanto quello, l'influenza che viene esercitata nel settore politico, anche quella è una cosa molto vecchia, ne troviamo traccia addirittura nei classici cinesi, nei tre regni, nelle opere di Sun Tzu eccetera, ma non è soltanto nei libri asiatici che ne troviamo traccia, ci rimane sempre un punto interrogativo, il modo in cui la Germania nazista e i contatti della Germania nazista con Edoardo, il re d'Inghilterra che aveva indicato, e con la moglie eccetera, o altre relazioni sempre dei nazisti con personaggi di altri paesi. Anche noi facciamo la stessa cosa, a volte con effetti positivi, a volte sbagliandoci. Ad esempio, quando venne decisa l'invasione della Grecia, Mussolini era convinto che sarebbe stata una passeggiata, perché era convinto di essere riuscito a convincere il primo ministro greco, Metaxas, ad arrendersi immediatamente, a fare una resistenza di figura e tutto il re. E beh, tutte queste cose messe insieme, tutti questi modi messi insieme, formano la guerra ibrida. E devo dire, oggi la guerra ibrida è resa in un certo senso più facile e in un altro senso più complicata, dalla disponibilità dei mezzi tecnici che noi abbiamo oggi, che non avevamo ieri, e che ci permettono azioni che in altri tempi non sarebbero state possibili. Ad esempio, tutta la guerra degli hacker, so per esperienza personale perché ho partecipato, anche in quanto invitato, a un paio di convegni in Cina sulla guerra elettronica, e la Cina se ne occupava già nei primi dieci anni di questo secolo. E questo sta diventando uno dei punti chiave della guerra, anche perché tutto è affidato all'elettronica, dell'informatica in maniera tale che se un paese riuscisse realmente a acquisire una totale superiorità nel settore, avrebbe gli altri paesi alla propria mercè dal punto di vista militare. e pensi alla superiorità americana. La superiorità militare americana è una superiorità che è basata essenzialmente sui computer. Nel momento in cui qualcuno trova il modo di influenzare, di fermare i computer, l'America si ritrova con una massa di feraglia e tutto cambia in un certo senso. Ecco, in questa nuova fase che è stata aperta appunto dallo scoppio del conflitto della guerra in Ucraina, quali vede come principali scenari possibili? E quali vede come possibili tendenze e questioni aperte rispetto a ciò che abbiamo parlato? E quali scenari possibili nella guerra in Ucraina che vedo è nel breve periodo un ulteriore guadagno di territorio da parte degli ucraini. C'è un momento di parziale superiorità degli ucraini grazie a parecchi fattori, al fatto che combattono a casa loro, al fatto che hanno una motivazione che è ben differente da quella dei russi, e al fatto che hanno mobilitato tutto il paese, cosa che la Russia non ha fatto e che è stato un grande errore da parte dei russi. Tra le altre cose, siccome la storia sia pure soltanto per analogie, si ripete in continuazione lo stesso errore che fece Stalin, Putin ha fatto lo stesso errore che fece Stalin quando aggredì la Finlandia nell'inverno del 39, mobilitò soltanto la guarnigione di Leningrado, convinto che sarebbe stata una passeggiata, anche la Finlandia che aveva lasciato la Russia solo vent'anni prima sarebbe stata ben felice e avrebbe accolto i soldati russi a braccia aperte. Il risultato è stato un inverno infernale con centinaia di migliaia di morti dalla parte russa, quello dell'inverno delle tobbe in Karelia, però dopo la Russia mandò i siberiani e mobilitò tutto, e alla fine della guerra la Finlandia aveva perso un terzo del territorio. Quindi io sono nel breve periodo ottimista per l'Ucraina, nel lungo periodo ho un grosso interrogativo, perché la Russia è un paese che non ama perdere, non solo è un paese che non ama perdere, ma è un paese che è abituato alle sconfitte parziali, a cedere territorio, a cedere tempo, a utilizzare il territorio e il tempo per cambiare il rapporto di forza a cose. Quindi alla lunga non so come andranno le cose, anche perché l'Ucraina dipende per buona parte dall'appoggio dell'Occidente e mi chiedo quanto durerà questo appoggio dell'Occidente. Abbiamo un banco di prova, in certo senso a portata di mano, il prossimo inverno. Come reagiremo al prossimo inverno? Un prossimo inverno in cui, se continua la situazione attuale, l'effetto economico della guerra ci porterà via in un anno, diciamo così, l'8-9% di svalutazione di quella che è la nostra moneta e di quelli che sono i nostri risparmi. E poi ci troveremo a affrontare delle difficoltà dal punto di vista del riscaldamento della vita di ogni giorno. E ognuno di noi ci chiederà ne vale la pena, dando una risposta nel proprio foro interiore. E dall'insieme di queste risposte nel foro interiore di tutti dipenderà l'atteggiamento del Paese. Ma non succederà soltanto da noi, succederà in tutti i Paesi che sono impegnati contro noi. Allora, quale sarà la nostra tenuta? Se la nostra tenuta sarà una tenuta forte, se ci renderemo conto. Personalmente ritengo che noi stiamo combattendo una battaglia per la sopravvivenza del nostro modo di vita, delle nostre libertà, della nostra democrazia, eccetera. Ma è un'idea personale e mi rendo conto che ci possono essere delle idee ben diverse. E la posizione di un Paese dipende sempre da quella che è la risultante del confronto delle idee che ci sono all'interno del Paese. E vedremo nel lungo termine o addirittura nel medio termine, dopo quest'inverno, si potranno fare previsioni. Non vedo l'impiego di armi nucleari, però anche lì posso sbagliarmi, purtroppo, perché non vedevo neanche l'invasione dell'Ucraina. Eppure l'invasione dell'Ucraina è avvenuta. Pensavo, come pensavano quasi tutti, a una manovra, veramente. In quel senso, con operazioni di guerra ibrida, cioè con operazioni di propaganda, di informazione, di disinformazione, mirata, pilotate bene, perché in quello sono stati bravi i rossi. Ero stato ingannato, come è stato ingannato tutto l'Occidente, o quasi tutto l'Occidente, che non ci credeva. Non può succedere, non può succedere in Europa. Da noi le guerre non ci sono. Grazie. Allora, con queste domande e interrogativi finali, sicuramente inquietanti, ma con cui tutti dobbiamo confrontarci, ringraziamo il generale Cucchi per questa conversazione che ci ha permesso appunto di affrontare un tema che appunto di solito è relativamente poco discusso nel dibattito pubblico, quello delle Forze Armate, ma che comunque è una realtà appunto che esiste e che è necessario conoscere. E ringrazio tutti voi per l'attenzione, per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Dialoghi di Pandora Rivista. Grazie a tutti. Grazie per aver guardato questo dialogo, se l'avete apprezzato lasciate un like e se volete essere aggiornati su tutti i nuovi video di Pandora Rivista, iscrivetevi al canale. È anche un modo per supportare il progetto.